Salute e buon pomeriggio a tutti da Maria Di Nolfi e buon pomeriggio in particolare ai militanti del popolo della famiglia. Oggi è nel giorno post-elettorale, siamo al 5 marzo, abbiamo sempre detto dopo il 4 marzo ci sarà il 5 marzo e dunque eccoci al 5 marzo a fare una riflessione insieme sull'esito delle elezioni, sul nostro futuro, su quel che faremo da oggi in poi, ovviamente chi vorrà, chi si sentirà di proseguire in una battaglia che è importante. Fatemi però esordire con un ringraziamento ovviamente a tutti voi che siete già in diretta, che state condividendo sui vostri profili, che state facendo sapere all'Italia che noi siamo qui sorridenti con l'animo lieto per tutto quello che è accaduto e per la grande battaglia che abbiamo combattuto insieme in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi e in questi anni. Il nostro grazie va immediatamente a 220.000 persone, lo ripeto, 220.000 persone che hanno scelto il popolo e la famiglia sulla scheda elettorale. 220.000 militanti. Ricordiamocelo, ogni volta che ci sentono di dire oggi, ovviamente con un po' di scoramento, speravamo di superare uno sbarramento, di avere un risultato percentualmente migliore, ma non dimentichiamo di dire grazie, prima di tutto, a 120.000 persone, 220.000 persone, scusate, 220.000 persone che hanno scelto il popolo e la famiglia e che rappresentano in tutta evidenza una militanza che nel mondo cattolico semplicemente da tempo non si vedeva questo risultato, un risultato che è una conquista di tutti voi, non faccio i nomi, siete stati grandiosi, a cominciare da segretario nazionale Gianfranco Amato e da Nicola Di Matteo, il nostro coordinatore nazionale, avete fatto un lavoro eccezionale in ogni angolo della penisola e oggi noi siamo una forza politica che come avete visto anche durante la serata elettorale da Mentana piuttosto che da Vespa non era più racchiusa nella scatola degli altri, siamo emersi finalmente nell'ultimo giorno equiparati a Casa Pound e a Potere al Popolo c'erano le due forze che erano state un po' più coccolate dai media, 220.000 persone, l'ho detto, riempiono 5 volte lo Juventus Stadium e bisogna vederlo lo Juventus Stadium per capire cosa vuol dire avere 5 volte, anzi qualcosa in più, 5 volte e mezza la Juventus Stadium pieno, vuol dire davvero tante, tante, tante persone. Noi dobbiamo da questo punto di vista capire che il nostro messaggio è arrivato nelle difficoltà enormi derivanti dalla, la prima questione, la non conoscenza del fatto che ci fosse il popolo e la famiglia, quindi connessa a questa non conoscenza la non copertura mediatica. Noi non abbiamo avuto un minuto, un minuto, nelle principali trasmissioni televisive, penso a 8 e mezzo, il telegiornale della 7, piuttosto che la trasmissione di luci annunziata, 4 minuti all'una e mezza di notte da Bruno Vespa, niente 30 secondi da Bianca Berlinguer, niente nei telegiornali, con lo zero assoluto di copertura mediatica e quindi con una porzione di italiani che ci conosceva, che era estremamente ridotta, noi abbiamo convinto 220.000 persone a venirci a votare. è un voto di militanza, non abbiamo preso 220.000 voti, noi abbiamo 220.000 militanti, è una cosa completamente diversa, importante perché adesso dobbiamo esserne degni, il nostro problema ora è essere degni di un movimento che ha centinaia di migliaia di militanti, dobbiamo essere all'altezza di questa sfida, quindi il primo elemento da togliere dal nostro orizzonte è lo scoramento, la delusione, noi dobbiamo essere davvero a testa alta a dire abbiamo fatto la buona battaglia, abbiamo combattuto in maniera giusta, abbiamo combattuto in maniera corretta, abbiamo subito molte scorrettezze, non abbiamo reagito, non abbiamo pubblicato le controlettere per capirci quando arrivavano le lettere che dicevano non votate il popolo e la famiglia, abbiamo subito una campagna contro senza precedenti e vergognosa, non abbiamo sostanzialmente reagito, le trappole hanno provato a costruirle fino al giorno delle urne aperte per capirci, il risultato ha un che di deludente ovviamente, io adesso non voglio dire il risultato è quello che ci aspettavamo, ma aspettavo di più, lo voglio dire con franchezza, non sarò ipocrita su questo, speravo in un risultato migliore, ma da 220.000 si riparte, da 220.000 si riparte e si prosegue, c'è chi dice, vedo Angelica Bosio, sono pochi, sono pochi, ma sono 220.000 che, ripeto, vanno immaginati tutti insieme, vanno capiti, sono 220.000 che nello stesso momento, lo stesso giorno hanno preso la stessa decisione di affiancare il popolo e la famiglia in questa battaglia. Dovevano essere di più, certamente, se avessimo avuto la stessa copertura mediatica di potere al popolo, dico il minimo proprio, o di Casa Pound, avremmo preso molti, molti più voti. Ma adesso abbiamo degli appuntamenti immediatamente, vedo arrivare Lanfranco Lincetto, il 22 aprile si votano i regionali in Friuli Venezia Giulia, che facciamo? Disperdiamo il nostro consenso ottenuto in Friuli Venezia Giulia o appoggiamo il vice sindaco di Cordenons in una battaglia politica ulteriore per avere eletti in Friuli Venezia Giulia? Si vota in Molise, dove una disgraziata evenienza ci ha costretto, nonostante avessimo raccolto le firme a non presentare la lista alle politiche. Che facciamo? Non andiamo a fare regionali in Molise il 22 di aprile? E a maggio, a fine maggio, avremo le comunali in tantissime città italiane, mi vengono in mente Teramo, Brescia, Treviso. Che facciamo? Non andiamo a fare le campagne elettorali? Noi abbiamo adesso un dovere nei confronti dei 220.000 amici militanti che hanno sostenuto il popolo della famiglia. Abbiamo un dovere nei loro confronti di essere conseguenti a questa battaglia che è stata solo un primo passo. Un primo passo. La prima volta che ci presentiamo alle elezioni politiche nazionali, per la prima volta abbiamo ottenuto il consenso di 220.000 persone. Nelle condizioni date, cioè scarsissima rilevanza mediatica, difficoltà oggettive e nessuna capacità economica, se non la nostra capacità di autotassarci, tantissimo fuoco nemico, una vergognosa mole di fuoco amico e in queste condizioni, nonostante tutto questo, 220.000 persone hanno dato fiducia al popolo della famiglia. Dunque si va avanti. La strada è quella giusta. La strada è quella giusta. Perché ha radunato un popolo. Ha radunato un popolo, fatemelo dire, che ha surclassato la lista del ministro Lorenzin, che pescava anch'essa nel mondo cattolico. Surclassato la lista dei cattolici adulti, quella sostenuta da Romano Prodi. Surclassato, raddoppiato, la lista degli estremisti fascisti di forza nuova che volevano proporsi come i veri paladini della fede. Abbiamo pochi decimali di distanza da noi per l'Italia. Noi con l'Italia è un movimento che ha decine di parlamentari, da lupi, affitto, aveva decine di migliaia di amministratori locali sul territorio e è finito a pochi decimali da noi. Io dico che noi dobbiamo essere soddisfatti. Se un ministro in carica prenda quasi la metà dei nostri voti, se la lista sostenuta dall'ex presidente del Consiglio Romano Prodi prende la metà dei nostri voti, se doppiamo forza nuova che è stata tutti i giorni dagli fatti di macerata in televisione con Roberto Fiore, se siamo a pochi decimali da noi con l'Italia, la lupi e da tutte quelle persone, vuol dire che davvero il nostro risultato è dentro l'alveo di quello che si poteva fare. Si poteva fare molto di più se ci fossero state condizioni diverse. Questi 220 mila voti però ci dobbiamo tenere stretti come elemento di responsabilità, come elemento di responsabilità per il futuro che si apre, per il popolo della famiglia. Un futuro dentro uno scenario completamente nuovo. Avete capito che la politica italiana da ieri ha aperto una pagina di storia completamente nuova? La promessa che abbiamo fatto a Renzi l'abbiamo mantenuta. Renzi è distrutto. Tra qualche ora si dimetterà anche da segretario del Partito Democratico. Non è arrivato neanche al 19%. Ha perso 22 punti in tre anni e mezzo. Dal 41% scende sotto il 19%. E allora capite che è stato davvero un evento, questo della elezione del 4 marzo, in cui siamo stati protagonisti di eventi, di fatti storici. C'è una centrodestra che, a mio avviso, vince le elezioni, con Salvini che impone la sua leadership. E c'è un Movimento 5 Stelle, molto oltre il 30% dei voti, diciamolo con chiarezza, votato anche da moltissimi cattolici, incredibilmente, per me in maniera inconcepibile. Ma noi abbiamo una sfida adesso da raccogliere. Il Movimento 5 Stelle attira un voto in crescita dei cattolici di questo paese. È un dato di fatto. E va addirittura al 32% livelli della democrazia cristiana. Allora, la battaglia, come capite, è determinante. Noi, per esempio, io ho già fatto una dichiarazione in cui ho detto che riteniamo giusto che l'incarico di governo sia dato a Matteo Salvini e non a Luigi Di Maio. Voi capite che siamo dentro già questo crocevia in cui Luigi Di Maio vorrà l'incarico di governo perché è il leader del partito che ha ottenuto più voti e indubbiamente è così. Salvini chiederà l'incarico di governo come leader della coalizione che ha avuto più voti e indubbiamente è così. Dobbiamo augurarci che l'incarico vada a Salvini perché se invece dovesse andare a Di Maio l'incrocio tra i populismi vari e tra le varie convenienze in Parlamento genererebbe un governo su cui essere terrorizzati. Essere terrorizzati. Le candidature di alcuni amici non sono andate a buon fine verso a Cerrelli, battuto nettamente 51-24 dal Movimento 5 Stelle. Penso agli Adicicco battuto a Roma da Emma Bonino con quasi il 40% dei voti anche lì ho 8 punti di distacco. Ecco, attenti allo scenario adesso. Emma Bonino è in Senato potrebbe diventare presidente del Senato un presidente del Senato votato da centoteste e da centosinistra quanto tempo abbiamo denunciato questo elemento che sarebbe stata un punto di equilibrio Emma Bonino rispetto a questi interessi che poi in realtà non sono contrapposti ma sono collimanti. Il nostro ruolo è anche questo. Il nostro ruolo sarà anche gridare rispetto ai fatti di questo scenario nuovo. Dire con chiarezza che noi non vogliamo Emma Bonino presidente del Senato. Dire con chiarezza che preferiamo che l'incarico sia dato a Matteo Salvini e non a Luigi Di Maio. Fare tutto ciò che è necessario fare affinché la politica abbia ad ascoltare l'unica voce limpida di cattolici impegnati sui principi non negoziabili che è la nostra che continueremo a far ascoltare a livello nazionale come a livello locale e la faremo ascoltare anche nelle battaglie elettorali che ci vedono protagonisti tra pochissimi giorni lo ripeto già a fare le liste nei consigli regionali del Molise e del Friuli Venezia Giulia già a costruire le ipotesi in vista delle comunali di maggio e di giugno è questo quello che dobbiamo fare amici miei dobbiamo essere molto consapevoli della bellezza di questa lotta dell'importanza di questa lotta del fatto che sicuramente possiamo non dirci soddisfatti potevamo avere più voti se le condizioni fossero state diverse ma abbiamo dato il massimo tutti e abbiamo ottenuto un risultato lo ripeto che non può essere sottovalutato nel mondo cattolico perché la novità adesso riguarda anche il mondo cattolico lo scenario cambia completamente e cambia completamente per tutti non ci sono più le rendite di posizione è cambiato completamente lo scenario ai professorini di alleanza cattolica a quelli che vogliono insegnare come si fa stando in 8 in 10 in 12 in 20 noi contrapponiamo adesso un popolo un popolo un popolo che si è mobilitato a mani nude e che adesso ha una sua fisicità composta ripeto da 220.000 persone con queste 220.000 persone noi andiamo a bussare in termini unitivi ma dicendo ora c'è da fare un tratto di strada il più possibile insieme ma dentro lo schema politico proposto dal popolo della famiglia perché fuori da questo schema politico non c'è popolo noi invece abbiamo dimostrato questo è il dato importante da sottolineare che il popolo c'è ci sono due messaggi semplici che sono passati quello del 5 stelle anticasta molto chiaramente e quello della lega anti immigrazione noi dobbiamo imparare a semplificare il nostro linguaggio a semplificare la nostra proposta politica estremamente ricca le nostre 65 proposte ha scritto un programma meraviglioso poi la gente però ha votato in maniera molto semplificata estremamente semplificata allora noi dobbiamo continuare a dire che c'è un popolo cristiano in cammino ispirato cristianamente e fermo nei principi non negoziabili a difesa a tutela della vita e della famiglia questi principi noi li dobbiamo evidenziare senza timore e senza neanche metterci a fare i tuttologi perché non è tempo di tuttologie ora c'è bisogno di fare un lavoro serio di conquista palmo a palmo del territorio di conoscenza del popolo della famiglia ieri credo che è stata una serata comunque importante perché lo ripeto in tutti i telegiornali non eravamo la lista di ingroia che non c'è praticamente ha preso lo 0-3 o quella di verdini che non c'è i repubblicani tutti spariti non c'è la forza nuova non veniva elencata venivano elencate solo tre forze fuori dagli schieramenti potere al popolo casa pound e popolo della famiglia ripeto potere al popolo casa pound e popolo della famiglia una rappresenta l'anima comunista una rappresenta l'anima fascista noi abbiamo rappresentato credo degnamente l'anima di ispirazione cristiana questa è la novità storica persino nel panorama televisivo di ieri perché fino all'altro ieri in quel panorama televisivo noi non esistevamo non esistevamo adesso c'è da costruire le condizioni affinché questa tripartizione identitaria perché c'è voglia di identità veda nel popolo della famiglia il punto di riferimento della dell'area cristiana e l'area cristianamente ispirata in questo paese abbiamo secondo me dato moltissimo in questa campagna elettorale non abbiamo neanche tempo per riposare non ce l'ho stamattina ero al telefono con la Franco Lincetto per ragionare sugli schemi possibili da adottare in regione Friuli-Venezia-Giulia così come dopo mi sono sentito con Mirko De Carli per approntare le liste in in Molise per i consigli regionali ci sentiremo per fare le amministrative con tutti coloro che sul territorio sul territorio perché dobbiamo essere sempre di più movimento di territorio vorranno candidarsi alla guida delle realtà comunali e quindi come sempre il popolo della famiglia si misura con il consenso questa è la novità non ha paura di farsi ridere non ci interessa nulla è un dato di fatto che siamo emersi dal calderone degli altri erano 22 le liste concorrenti lo ricordo solo quelle di piano nazionale 22 e noi siamo quelli gli unici emersi dalla iper calderone con un'identità ben precisa l'identità rappresentante l'ispirazione cristiana è del popolo della famiglia questo è il dato di fatto che emerge persino dalla serata televisiva di ieri ora dobbiamo farlo crescere questo seme dobbiamo far diventare tutto questo un percorso ancora più arricchente ancora più forte ancora andare a conquistare altri spazi di consenso avere più eletti più eletti perché ne abbiamo eletti i sedici fino a oggi ora dobbiamo eleggere più persone altre persone avere un reticolato di eletti sul territorio è una cosa fondamentale questa e dunque le amministrazioni locali diventano il territorio della sfida da adesso in poi per un percorso che non sappiamo poi dove ci porterà questa legislatura non sappiamo quanto durerà sicuramente fra un anno ci sarà da votare per le elezioni europee e tra un anno saremo ancora protagonisti ancora con il nostro simbolo dobbiamo essere determinanti c'è chi scrive qui in Friuli ha preso 5.000 voti su 600.000 5.000 voti basta eleggere un consigliere regionale e noi ambiamo ad eleggere un consigliere regionale quindi faremo questo leggeremo un consigliere regionale in Friuli leggeremo un consigliere regionale in Molise leggeremo tanti eletti nei consigli comunali avremo un radicamento perché quella che stiamo per fare è una lunga traversata del deserto è lunga nessuno può immaginare che in meno di due anni nascesse un movimento politico capace di approdare immediatamente in Parlamento ci abbiamo sperato ma non era probabile ora dobbiamo fare un percorso che sa sa essere complesso sa essere appunto la traversata del deserto lo sappiamo che è un percorso lungo ma ricordatevi che il Movimento 5 Stelle è nato dieci anni fa dieci anni fa i percorsi hanno bisogno dice il nostro segretario Gianfranco Amato ci sono voluti centinaia di anni per costruire la cattedrale di Praga o come dico più semplicemente io Rome wasn't built in a day Roma non è stata costruita in un giorno il Movimento 5 Stelle ci ha messo dieci anni la Lega dell'87 prese lo 049 nel 92 si presentò con consensi molto più ampi è un percorso è un percorso dobbiamo fare tutti noi un atto di umiltà guardare gli errori che sono stati commessi cercare di capire dove abbiamo sbagliato come si può fare meglio lavorare però molto sul territorio e guardare la prospettiva politica la prospettiva politica parte da 220.000 persone che hanno votato il popolo della famiglia è una mole immensa di consensi per un mondo che non è più abituato a essere popolo come il mondo cattolico noi siamo espressione di un popolo questo è adesso certificato dal voto nelle urne perché chi è arrivato a votare il popolo della famiglia lo ripeto 220.000 persone chi è arrivato a votare il popolo della famiglia è oggi un militante perché ci è arrivato con una decisione che è una decisione piena una decisione evidentemente di grande militanza adesso è un punto di partenza che non possiamo e non dobbiamo abbandonare non farci prendere dall'oscuramento tutti noi adesso siamo molto stanchi evidente dopo tutto questo percorso c'è tanta stanchezza ma non c'è tempo per rilassarci non ne ho io non ne avete voi daremo una mano ai friulani e ai molisani subito per la campagna elettorale delle regionali del 22 aprile daremo una mano a tutti coloro che sul territorio vorranno sfidare ancora una volta le urne per costruire reticolato di consenso a favore del popolo della famiglia nelle amministrazioni comunali dunque faremo tutto questo lo faremo con nettezza con coraggio pregando pregando sempre ci dà tanta forza io lo dico a chi mi ha scritto ieri chi mi ha scritto anche oggi avete notato io ho risposto pochissimo erano le ore ieri e oggi delle preghiere di ringraziamento mi hanno regato un meraviglioso rosario un meraviglioso rosario dei combattenti questo è il rosario di queste ore dei combattenti dei combattenti per Cristo davvero molto molto bello questa è è è è un regalo prezioso queste sono state ore in cui sia ieri che oggi io non ho chiesto ho solo ringraziato ho pregato per ringraziare e recuperare serenità perché sicuramente quando si fa battaglia poi tante scorie tanti veleni tanta rabbia per le ingiustizie subite adesso il dato reale è costruire condizioni politiche in serenità ma anche in grande impegno per ottenere una capacità di mobilitazione che il mondo cattolico ha dimostrato attraverso il popolo della famiglia di avere in potenza in atto per 220.000 unità in potenza per un milione di persone sono certo che se avessimo avuto la forza mediatica di raggiungere avrebbero votato il popolo della famiglia dunque c'è da compiere questo tipo di lavoro c'è da compiere questo tipo di faticoso cammino ripeto una traversata nel deserto per arrivare dove è giusto arrivare poi lo dico a chi è stanco e non ce la fa più il disimpegno ovviamente può essere immediato e silenzioso e non c'è nessun problema per chi ha meno voglia oggi io ne ho di più io oggi mi sono svegliato con più voglia di dare qualcosa in più al nostro paese attraverso il movimento del popolo della famiglia qualcosa in più in questa stagione completamente nuova della politica in cui è davvero incredibile che si assente solo l'ispirazione cristiana solo il movimento di ispirazione cristiana lo abbiamo rappresentato credo dignitosamente con questi 220 mila voti che sono arrivati al popolo della famiglia ora non dobbiamo disperdere nulla di questa straordinaria storia di questa straordinaria energia di questi due anni meravigliosi faticosissimi ma meravigliosi che ora hanno un futuro ieri sera è nato un futuro per il popolo della famiglia è un futuro fatto di capacità di crescita di dovere di lavorare sulla costruzione del consenso di allargamento evidentemente del nostro mondo di capacità di rispondere a chi ha voluto focalizzare tutta la sua campagna elettorale nella campagna contro il popolo della famiglia dimostrando che noi non ci pieghiamo non subiamo il ricatto di chi vorrebbe e spererebbe che oggi il popolo della famiglia tolga il disturbo l'hanno provato a fare ogni volta nel 2016 nel 2017 anche nel 2018 non accadrà semplicemente non accadrà andremo avanti costruiremo le condizioni per il lavoro che serve compiere continueremo a essere militanti del movimento del cattolicesimo politico dei cristianamenti ispirati delle persone di buona volontà che sanno che in questa stagione storica è assolutamente determinante la presenza di un movimento come il popolo e la famiglia altrimenti ci consegniamo al populismo becero di Luigi Di Maio e a alcuni aspetti evidentemente pericolosi anche del populismo di Salvini dobbiamo essere netti e sapere come abbiamo detto che quei 220.000 che ci hanno dato la loro fiducia ci hanno anche chiesto atti di responsabilità e l'atto di responsabilità principale è da parte nostra non lasciarli soli far sapere loro che siamo grati del loro consenso e proseguiremo per via di questo consenso importante nel percorso che conduce il popolo da famiglia ne sono certo ad andare al governo del paese prima o poi a determinare gli equilibri e le scelte a cancellare le leggi ingiuste a investire con normative nuove a favore della vita e della famiglia essendo protagonisti fin da oggi perché ricordiamolo Emma Bonino è stata protagonista nella scorsa legislatura senza essere eletta in Parlamento e con la lista pannella che peserò 0,29% noi abbiamo preso il triplo il triplo di quel consenso e possiamo essere determinanti con le nostre idee possiamo essere presenti nel dibattito sui giornali locali nelle televisioni locali legittimati da chi? da 220.000 italiani che hanno detto sono loro quelli che ci rappresentano allora continuiamo a farlo questo lavoro facciamolo col massimo della determinazione possibile costruiamo il futuro impegniamoci abbiamo adesso sembra difficile chiedervelo ma devo farlo 90 giorni 90 giorni in cui si sceglieranno lo ripeto fra 45 giorni i consiglieri regionali in Molise e Friuli Venezia Giulia e fra altri 45 i sindaci i consiglieri comunali in moltissime città e allora dobbiamo essere in grado di fare questo lavoro casa per casa città per città comune per comune per far sì che lo spazio di crescita del movimento popolo e famiglia passi anche attraverso la crescita del numero di eletti perché è un elemento di grande importanza quello di avere eletti sul territorio perché è tramite gli eletti che si costruisce comunità politica dobbiamo davvero fare ciò che è giusto in questo momento e dunque accompagnare i nostri amici i nostri 220.000 amici che abbiamo incontrato in campagna elettorale che hanno dato fiducia al popolo e famiglia accompagnarli in questa nuova sfida che è la sfida per la città per i territori per le regioni in attesa di fare un altro sforzo nel 2019 e l'anno prossimo con la grande campagna nazionale per le elezioni europee vedrete signori lo dico anche ai troll che oggi sono venuti qui a a beccarci un po' vedrete il popolo e famiglia ancora una volta sarà in campo disturberà darà fastidio a quelli che non ci sopportano non cediamo non possiamo cedere dobbiamo andare avanti dobbiamo costruire le condizioni per una battaglia futura che è ricca di occasioni e di prospettive e lo faremo sulle nostre posizioni politiche sono solo nostre come sapete a difendere la famiglia e la vita siamo solo noi a difendere i bambini con sindrome di down o i bambini non nati ci siamo solo noi a difendere le mamme e gli uteri che non vogliono farsi affittare ci siamo solo noi a difendere gli anziani gli affaticati i sofferenti che vogliono essere alla fine consegnati all'eliminazione da parte di una società crudele e barbara ci siamo solo noi noi facciamo abbiamo una piattaforma politica che è la nostra del movimento popolo della famiglia è un'agenda politica nota per questo vengono i troll perché sanno chi siamo e c'è un astio molto profondo c'è anche un astio del mondo del fuoco amico ma noi tranquillamente andiamo avanti dicendo grazie un grande grazie anche a chi ci attacca perché ci ha fortificato e vedrete che come al solito non si potrà fare a meno di tenere presente che c'è il popolo della famiglia all'interno di un dibattito politico che si fa sempre più importante e decisivo perché è totalmente nuovo l'ultima cosa che volevo dirvi è che abbiamo recapitato la promessa quello striscione che abbiamo scritto che abbiamo portato in piazza che abbiamo portato al Circo Massimo con sopra scritto Renzi ci ricorderemo la promessa è stata compiuta ci siamo ricordati il popolo italiano si è ricordato ha mandato Matteo Renzi all'opposizione ha mandato il Partito Democratico molto sotto il 20% dei consensi ha conquistato dunque il dato politico che principalmente volevamo conquistare che era quello di mandare appunto il centrosinistra motore delle peggiori leggi contro la vita e contro la famiglia all'opposizione in questo paese è un risultato che ovviamente non abbiamo centrato noi non solo noi almeno ma sicuramente in questi due anni siamo stati avanguardia di un movimento politico che ha voluto spiegare l'orizzonte valoriale in cui deve muoversi un cattolico e Renzi evidentemente dicendo che aveva giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo senza accorgersi peraltro di averle tradite entrambi era uno che da quell'orizzonte valoriale si era completamente discostato allora noi credo che ora dobbiamo avere chiara la necessità di avere 24 ore di riposo forse 24 ore arriviamo a 48 non lo so ho detto 24 all'anfranco lincetto del Friuli Venezia Giulia perché so che lì bisogna fare le liste dentro il 23 di marzo e quindi mi riposerò giusto 12 ore e domani mattina andremo a valutare anche la nuova stagione politica del popolo e della famiglia in Friuli Venezia Giulia obiettivo ottenere più eletti possibili ampliare il fronte dei 220.000 dicendo però chiaro che ora un popolo c'è ora un popolo c'è è un popolo in cammino è un popolo con valori ben determinati con un'ispirazione chiara un programma evidente è un obiettivo di lungo periodo che non sarà una traversata del deserto a fiaccare siamo persone di nerbo siamo persone coraggiose siamo persone che hanno imparato a fare fatica nella dimensione politica non ci sarà fuoco nemico fuoco amico non ci saranno insulti improperi a poter fermare il cammino di questo popolo quindi a chi vuole cimentarsi ancora nell'insulto nel confronto nell'astio nella rabbia nel trolling nel mandare ai pazzi un intero movimento lo faccia perché noi siamo saldi nella nostra determinazione e cresceremo perché saldi siamo e sappiamo la direzione di marcia qual è siamo guidati non da noi ma da una stella polare che ci indica la via e questa via indicata noi la perseguiremo perché è giusto farlo e perché 220.000 persone hanno deciso di incamminarsi insieme a noi lo ripeto 220.000 persone hanno voluto accompagnarci in questo cammino e non possono che essere 220.000 militanti io vi ringrazio molto per tutto quello che abbiamo fatto di sicuro non mogliamo di sicuro siamo ancora in campo in questa battaglia di sicuro dobbiamo dare a tutti immediatamente la sensazione della forza di questo messaggio dei 220.000 che sono stati al nostro fianco di cosa significa tutto questo della nostra determinazione ad attraversare il deserto in una battaglia che non si ferma ha vissuto la sua prima tappa potevamo sicuramente fare meglio studieremo e ragioneremo su cosa possiamo migliorare per avere risultati migliori nelle prossime competizioni elettorali sono convinto che se avessimo avuto la copertura mediatica di Beatrice Lorenzin avremmo preso dieci volte i voti di Beatrice Lorenzin cioè il 5% ma anche così anche con la copertura mediatica che è stata mille minuti a Beatrice Lorenzin un minuto a noi abbiamo preso più voti di Beatrice Lorenzin più voti della lista prodiana più voti di Forza Nuova che ha avuto Roberto Fiore tutti i giorni in televisione alla fine sotto il 3% c'è anche la lista Bonino nonostante i milioni di euro spesi per la campagna elettorale in ogni stazione in ogni angolo di questa città e di questo paese noi con le mani nude ci siamo fermati a mi pare un terzo un quarto dei voti di Emma Bonino mi sembra che possiamo sicuramente dirci onorati e soddisfatti di non aver preso un soldo da George Soros di non essere al soldo della massoneria internazionale ma di essere semplicemente servitori e soldati di nostro Signore Gesù Cristo io penso davvero penso davvero che questa debba diventare per tutti noi una missione è la nostra missione è la ragione per cui siamo stati chiamati a fare tutto questo dobbiamo sentirla in termini comunitari questa missione la compiremo insieme la traversata sarà più lieve meno faticosa se cammineremo insieme nella solita modalità che noi conosciamo a testuggine in maniera che se attaccano a uno stanno attaccando tutti e in maniera che se dobbiamo attaccare sappiamo attaccare tutti insieme questo è ciò che noi dobbiamo costruire nell'immediato futuro come comunità politica ma anche come comunità di cristiani impegnati in politica e allora facciamo dunque altri passi in questa traversata i primi sono stati compiuti con soddisfazione almeno da parte mia avete tutti e ciascuno oggi non ho nominato nessuno di quelli che scrivono ma vi leggerò dopo sicuramente con grande attenzione se no avrei passato il tempo a leggere i messaggi e qualcuno dice che poi si annoia a vedere i video se sono tutti i nomi ma voglio ringraziare davvero tutti e ciascuno avete prodotto uno sforzo straordinario ringraziamento particolare ai candidati ai militanti ai tanti che hanno fatto i militanti senza essere candidati lo straordinario lavoro compiuto nei seggi dai rappresentanti di lista ognuno di voi ha dato davvero moltissimo io sono commosso davvero commosso dalla dedizione dimostrata dalla dalla militanza più accesa e più forte del popolo della famiglia dalle nostre liste dai nostri candidati dai nostri rappresentanti di lista dai nostri militanti davvero ad ognuno di voi giunga il mio ringraziamento perché sono onorato di aver combattuto al vostro fianco in questa prima parte di una lunga battaglia che combatteremo sempre insieme a noi la battaglia addio la vittoria da Maria di Nolfi un abbraccio a tutto il popolo della famiglia forza ci sono oasi qua e là dove andare a bere ma il deserto è vasto lo attraverseremo tutto e toccheremo sicuramente la nostra terra promessa da Maria di Nolfi una buona buona giornata e continuazione di battaglia a tutti voi grazie a tutti